Sarà sabato questo, sabato vedete il lunedì, sabato vedete il lunedì, vittorio è una vera di sorpresa, puntando da basso per gli abbandonati sul monte Fontanaseca, che è un monte, fino a Monte Braga, che è dove fai a un'indonazione, al 20-200, è l'Italia dove ripeteremo le banche, dove rinunciamo a lavoro, faremo un'alza bandiera con gli albini, un sacco di vino, con il formaggio almeno grande che si chiama Mastato, e lui sarà il testimone della bandiera del tricolore, se ti è venuto prima, la vera tricolore, le importanze del tricolore, rissare il tricolore un po' dove di fine, di miliardi di ragazzi hanno perso la guerra per più di ciò, per dare a loro una libertà di più di anni, in quel posto che sono morti, rimettere le banche, ridare vita ai pascoli, ridare futuro, ridare turismo, ridare speranza anche a questa pericchieria di tasca, la periferia di chi è diventata la periferia d'Italia, bene, questo è un altro messaggio molto importante, vedremo con Vittorio Sato, quindi insomma non c'è, non c'è la periferia, non c'è troppo, il messaggio è un'altra.